bene quindi se ti vai a raccogliere un po di o prenderci un po di potenziamenti beh facciamo così faccia di proseguire nel giorno faccio a fare a riccardo a questo pezzo qua che lui si ricorda tutte le location la memoria cerchiamo di risparmiare un po di tempo che sono già perso la maggior parte a salire con la stanza quella in cui mi sono appena gettato e vai da un giro piacere salire la mia che diventa il dramma fastidioso per salire in questo porto ma non c'è mai capo acqua c'è il pezzo quello sicuro dove di girare questi simpatici ho già facciare fatta soli ormai con tutto l'allenamento ebbene 5 super che non guastano fanno sempre comodo questo è il raggio e gancio i pezzi infatti i pezzi quelli che piacciono io qua ci avrei ovviamente avrei passato tutto sulle punte io per andare avanti poi ho rifatto molto prima ok e questa non serve assolutamente nulla per proseguire nel gioco ma siccome dobbiamo fare anche perché tanti sono giallati tanti commenti di persone che dicono eh sarà un'impresa ma noi ce la facciamo e la metteremo tutta noi siamo degli hardcore gamer temprati da anni e anni di esperienza puoi dirlo forte adesso questi nemici sono pressoché ridicoli spari avanzati bene adesso adesso ok andiamo a vedere se possiamo prendere una cosa di energia che fa sempre racconto ovviamente e questo qua dove dovrebbe esserci qua era proprio le prime zone però c'era una cosa di energia in questa stanza che prima non potevamo prendere perché non avevamo l'impresa e soprattutto avremmo potuto trovare perché sembra che sia attaccato al soffitto però ora che abbiamo questo fantastico aggeggio cioè qua veramente adesso vabbè tu te lo ricordavi un po' poi avevi la guida però poi qua c'è ancora una zona ma in cui non possiamo andare perché c'è in realtà potremmo andarci ma non possiamo ottenere i potenziamenti perché non serve no devo usare tipo una gigabomba però non possiamo andarci perché serve tutta antigravità perché c'è dell'acqua poi quello che dico io se non hai una guida cioè come fai se poi è una cosa del genere non è che ti permette a ispezionare col regal giggs tutto il pianeta è inevitabile lo devi sapere per forza vediamo un po' poi se non sbaglio questa parete qua si gigabomb vabbè eccole power bomb altri 5 bombe perfetto facciamo man basso ci stiamo ampliando non poco man bassa di potenziamenti lo stavi sgargiando dal muro eh vabbè ma io ho questi poteri anche eh vabbè con tutti gli armamenti bellici di più di secondo no non c'è pirata spaziale che tende eh no decisamente aspetta qua l'acqua questa è che quello di super mario no qui c'è un potenziamento però che colpi tutto il primo colpo tra l'altro ragazzi non è che dici doveva farci un po' di volte eh se dovranno fare uno speed run no? sì diciamo che le prime parti non so proprio no quella della rampa soprattutto ho richiesto più di due quindi alla fine siamo sempre negli stessi posti solo che ovviamente sì man mano che raccogli potenziamenti vari poi anche lì sotto ci sono c'è un tutta una zona che non possiamo ancora di cui non possiamo ancora soffrire perché appunto serve la tutta antigravità ma quella porta lì la facciamo dopo questa porta qua ok possiamo anche farla facciamo tutto tutto bene ma qua solo vorrei dire non mi sembra che ci sia una gabbola come al solito ebbe tutto fatto apposta eccola lì una bella giga bombazza ma bombazza aspetta un attimo però c'è qualcosa che non mi convince del tipo del tipo questo ovviamente qua o le scopri per caso o le devi sapere se no rimangono nascoste per quello che tutti quelli che mi hanno commentato mi hanno detto eh sarà un'impresa alba non ce l'ho fatta però bene che non ce la faremo neanche noi perché non ce la facciamo perché sono troppo forti albifed coi potenti mezzi tecnologici noi stiamo consultando una mappa piccolissima sull'ipod touch quindi potenti mezzi tecnologici da nazionale ritornare da sotto aspetta ma non sarà eh beh insomma in qualche modo si dovrà potrò uscire no? eh beh dienisi bloccati qua mi sono messo a pallina nel mentre ero nel muro ok ora la porta gialla di prima non sono sicuro che possiamo farla vediamo subito cazzo una gigabomba carasano poi qua c'è un'altra famigliola felice madre con i piccoli vado a distruggere una ma ti ricciò ti ricciò qui adesso sarà più complesso di quello che sei ma più che altro non vorrei non poterlo fare perché non mi ricordo è riuscito ok si e lì eh no dall'altra parte non posso sai perché serve il ragione quello che passa ah no non ti posso ho detto migliorzia tremenda eh però ah si penso ti andrei di nuovo no vedi serviva però per poterlo fare serve il ragione ah perché si che abbiamo preso se no non passavano dietro ragazzi cioè non passavano attraverso i muri e qui c'è se non ricordo male esatto queste qua queste più che più che utile poi fanno sempre guardando le tacche che ci sono lì sopra dovrebbero esserci ne sette per ogni fila sì quindi sono quattordici in tutto ok quindi almeno ci sappiamo anche più che altro visto che abbiamo rischiato diverse volte la morte non avendo granché vita così almeno ci e ma ci sarà ci sarà qualche passaggio eccola qua come se ne erano bloccati qua così già ragioniamo eh sì se no bisogna avere per forza il salto spaziale quello che è un volteggio non penso che abbiamo fatto il gioco io credo che ti puoi bloccare il mister no preoccupante ok benissimo sta andando tutto alla perfezione cioè se aveva un nemico di colpo enorme non è nemico e ti distruggi facciamo anche vedere questa zona simpatica dove c'è uno struzzo inutile uno struzzo sì una sorta di struzzo vedi qua sotto cadi terribilmente sì finisce una caduta senza fine c'è questo struzzo che è quello che ti insegna quella mossa di cui noi abbiamo già usato in lungo e l'aro quello di salire salita perfetto quindi ammazza non ti serve lui mi fa vedere ma io lo anticipo sono più veloce vedi che una gara no ti ha fregato basta solo che lui si ferma lì sotto mentre io fortunatamente riesco a uscire da quel bar altrimenti sarei bloccato lì per l'eternità con uno struzzo una sorta di uno struzzo animale simile uno struzzo spaziale si esatto è pieno di fauna immaginario tipo i cavallucci magmatici fantastici ok prima di andare sotto ad incontrare altri tre simpatici animaletti della fauna locale di greenstar andiamo a fare questa stanza ancora che è piena di potenziamenti qua c'è uno che abbiamo colpevolmente dimenticato in passato stiamo andando velocissima noi 5 minuti prima di registrare abbiamo provato il tutto cioè ci siano gestire tutto anche per la tacea per non perdere tempo 20 minuti ci vuole però intanto va fatto mi sa che 20 minuti ce li mettiamo siamo a 10 minuti adesso è più che andrà un po' tutto ok dunque qua c'è una simpatica riservata anche che queste servono da morire quindi questa parte qua verrà tutta occupata da questa ricerca di potenziamenti per chi segue il gameplay sarà una parte noiosissima però invece chi cerca una guida si esatto chi punta al 100% non ha voglia di cercarsi guida in inglese o mappe astruse che tanto ci pensiamo noi a fare vedere come si prendono questi oggetti qui 10 missili 5 a distanza di 2 metri non un grande 5 e 5 ok poi qua non è mica finita non la racconta la caccia grossa ah i super missili siamo ampliati non poco questa è una cosa che non è ancora finita è una cosa che non serviva però comunque ci aiuterà senz'altro nell'andare avanti dopo se decisamente almeno abbiamo un po' più di proiettili ci si può anche ci possiamo fare sempre un giretto qua sotto visto che qua serviamo le gigabombe per poter andare quindi prima non potevamo ma ripotenziamenti ottenuti possiamo tranquillamente andare qua sotto nooo le gigabombe vabbè in realtà non ho tenute più di quello che ha qua c'è una gavola terribile una fregatura incredibile fate attenzione perché io ci cascavo sempre esatto vedete questo baratro proprio prima della cosa dell'energia perché se cadi di sotto c'è un bel boomer adesso se cadi di sotto spendi perché qua il rischio di soffare nel buco se cadete di sotto dovete rifare tutto tutto il giro qui a tre cinque super ministri ho detto banno il buco mi è venuto in mente con la puntata di griffy giù nel canestro bellissima che non c'entra niente ma comunque ci sta ok scendiamo adesso nel buco perché bisogna scenderci facciamo un salvataggio rapido in questa stazione visto che abbiamo ottenuto non pochi potenziamenti esatto direi di non rischiare adesso andiamo a trovare gli animali salterini che ci insegneranno mimando il salto a parete una mossa che noi già conosciamo non c'è bisogno che ce lo vengono insegnare dei stupidi animali però mi metti del ruolo queste queste cose tipo rane occhiolute cosa sono dei parassiti sicuramente dei parassiti perché si attaccano e ti sentiamo tutte le energetiche ok eccoli qua i sintomi ci potremmo fare anche un po' più bene se non hanno dei pochi tre fratelli ecco vedete che c'erano vedere salto a parete ma anche qua noi danno è ancora tempo non ce la faccio qui ci hanno battuto l'altro devo male devo tornare giù perché si deve andare in quella ok mi fa vedere che c'era questa è buona bene direi che la raccolta per ora la raccolta di beneficenza è stata abbastanza prolifica tanto poi adesso tu penso che fai salto a parete poi dopo all'anchio tra l'altro riesco a farlo solo da sinistra verso destra ok perfetto benissimo direi andiamo a salvare visto che abbiamo fatto tutta questa una parte giusta è venuta adesso 14 minuti questa zona nemmeno farla apposta come ci fossimo organizzati prima assolutamente no adesso andiamo qua e poi a questo punto andiamo un po' si è giusto se no non guarda più nessuno cerchiamo a turi cambio tattico di joyce cambio avanti ok torna su così almeno adesso abbiamo un bel po' di vita un bel po' di energia e missili e affini pronti per affrontare il proseguio dell'avventura grazie a tutti